Siamo con Cinzia Pellegrino, senatrice Fratelli d'Italia e responsabile del Dipartimento Tutela Vittime, DFD. Oggi presentate questa iniziativa, un'onda tricolore contro le mafie, di che si tratta? Siamo alla terza edizione ed è tutta una serie di attività che ci vedranno protagoniste nelle piazze, a diretto contatto con i cittadini, per ribadire alcune proposte che porterà avanti Fratelli d'Italia con l'attuale maggioranza di governo e quello che già in così pochissimi mesi è stato portato a termine, tra cui appunto il decreto brutto e l'assoluto sì all'ergastolo ostativo. In più andremo in tutta Italia a ricordare che il problema della mafia non è mai terminato, anzi la mafia non ha subito alcun tracollo nemmeno in tempo di pandemia e si è addirittura rafforzata. Ricordiamo che alcuni dei mafiosi erano addirittura per certopi del credito di cittadinanza. Quindi è un tema sul quale tenere sempre testa l'attenzione e sul quale ci aspettiamo anche nuove risposte da parte della nuova commissione antimafia che si è appena insediata.